Don Genni Guardascione è vicario della Forannia di Quarto, ci spieghi un po' come funziona quando ci sono delle manifestazioni in chiesa, cioè delle celebrazioni? Sì, buongiorno. Per quanto riguarda i sacramenti, diciamo che per quanto riguarda la prassi sacramentaria nella chiesa e soprattutto per quanto riguarda la questione della retribuzione, solitamente viene chiesta un'offerta libera, poi ciò si chiama offerta, altrimenti era un sacramento a pagamento, un'offerta per quanto riguarda la celebrazione da dare al parroco che viene poi, questa offerta utilizzata per le necessità della parrocchia, a volte per la caritas, a volte per altri bisogni come per esempio il pagamento di bollette e altro. Un'offerta che può anche essere non data a seconda delle esigenze familiari di chi viene in chiesa per celebrare un sacramento? Beh certo, certo. Diciamo che molte volte, al di là del fatto che vengono presentate buste vuote, ma non viene mai imposta l'offerta, assolutamente no. A volte capita che magari viene chiesto un contributo economico e questo è sbagliato. Ci sono in alcune parrocchie magari dove viene imposta una tariffa, questo è sbagliato. Ma noi come diocesi di Pozzuoli dieci anni fa abbiamo celebrato un sinodo e veniva ribadito nel sinodo diocesano che i sacramenti sono liberi perché sono un dono di Dio. Noi siamo soltanto dei ministri, dei sacerdoti e io questo voglio ancora ribadire. Noi non chiediamo soldi per i sacramenti. Viene chiesto un'offerta libera per gestire e mantenere la parrocchia con le attività, qualunque parrocchia essa sia. E sfido chiunque a dire che nelle nostre parrocchie di quarto non si operi soprattutto al servizio dei più deboli, dei poveri e delle persone bisognose. Se non ci si fosse la chiesa, nonostante le difficoltà e i difetti che abbiamo, è perché possiamo discutere su tante cose, ma sul fatto che noi siamo una presenza di carità sul territorio, questo sfido chiunque a dire il contrario.